Mandrù, frazione di Ayas. Da questa panoramica località si può partire per numerose escursioni, alcune delle quali molto conosciute come la Becca di Nana e il Monte Facciabella. Tuttavia lo scopo di oggi è quello di verificare la percorribilità della cresta sopra il paese, precedentemente esplorata solo in parte. Questa si sviluppa verso nord con saliscendi, intagli e gendarmi rocciosi, a partire dalla semisconosciuta Grandin per poi risalire verso la Becca di Nana o Falconetta. La prima parte di salita è comune alla normale da Mandrù alla Becca di Nana. Dopo un primissimo tratto nel bosco si raggiungono gli ampi pascoli dell'Alpe Mezzan, dove si trova il frequentato agriturismo La Chavana. Il sentiero attraversa il Rue Courteau, antico canale di irrigazione che scorre dal vallone delle Cime Bianche al Col de Joux. Superata l'Alpe Mezzan, si prosegue la salita verso l'Alpe Vascocia. Non è necessario toccare la cappella di Notre Dame de Montagnard, che viene lasciata sulla destra. All'Alpe Vascocia si incrocia la strada, poco dopo il sentiero si biforca. Il ramo di fronte, numero 3, sale al Colle Vascocia. Quello a sinistra, il 3A, porta verso la Becca di Nana. Fin qui ci troviamo su sentieri conosciuti e molto battuti. La falconetta è un 3.000 alla portata di molti, su cui ogni agosto viene celebrata una messa. Superata l'ultima sorgente e raggiunta questa conca, ci apprestiamo ad iniziare l'avventura. Priva di alcuna segnalazione, qui parte infatti una debole traccia che lascia la conca verso sinistra. Questo sentiero taglia inizialmente il pendio senza rilevanti variazioni di quota. Una volta raggiunto un falso piano erboso con grandi massi, ci troviamo proprio sotto la Grandin. Qui inizia anche la vera salita. Non esiste un sentiero e solo saltuariamente si incontrano alcuni ometti di pietre, che aiutano a procedere tra prato e pietraie. Raggiunta la base della parete est della Grandin, la accosteggiamo verso nord. Non lo so dove siamo, mi stanno portando a perdere. Esaurita la parte più ripida di salita, puntiamo verso un avallamento nella cresta, a nord della Grandin. L'avallamento è un'inattesa valletta nascosta, perpendicolare alla cresta. Percorriamo dunque la valletta, ma prima che questa sbuchi in Val Tournance, risaliamo il pendio a sinistra per riportarci in cresta. Una femmina di stambecco ci osserva, gli umani che salgono quassù sono ben pochi. Davanti a noi la cresta, inizialmente larga ed erbosa, conduce alla Grandin. Dal lato opposto invece, la stessa cresta si sviluppa ben più frastagliata, in direzione della becca di Nana. Il prossimo passo, comunque, è raggiungere la Grandin. Un grosso metto di pietra identifica l'anticima nord. Scavalcata l'anticima, ecco apparire la vetta della Grandin. In breve, questa prima cima della giornata è conquistata. La cresta prosegue oltre, in direzione del Colpio Ne, sarà oggetto di qualche prossima esplorazione. Poco a sud della cima, sul versante della Val Tournance, si stacca una caratteristica affilata lama di roccia chiara. La stessa Grandin, del resto, più che una vera cima, è una gobba della cresta che divide Ias dalla Val Tournance. Praticamente sconosciuta, è raggiunta ben di rado, ma sa regalare una prospettiva del tutto inedita su entrambi i versanti. Ora, nascosta tra le nubi, la lunga cresta verso la Falconetta ci aspetta. Lasciamo quindi la Grandin, tornando sui nostri passi. Riecco la valletta. Questa volta la traversiamo trasversalmente per risalire sul versante opposto. Questa parte di cresta non presenta grosse difficoltà. Affrontiamo piccoli salti di roccia e troviamo anche qualche ometto. Anche questo grosso gendarme è meno impegnativo di quanto sembri. La salita di alcuni metri si affronta velocemente con l'uso delle mani. La sommità è una cristina rocciosa, piuttosto affilata, ma facile da percorrere. La discesa appare un po' più problematica, ma in realtà, affrontata comunque faccia a monte, si trovano numerosi appoggi e comodi appigli. Guardi, questa qua si muove, è quello che non l'ho presa. Poi magari tiene, però, questa qua. Poi magari tiene, però non l'ho presa. Perché Giovanni l'ha presa e si era mossa. Allora ho evitato di prenderla perché... Vado diritto qui? Sì. Vado giù, giù, giù. Ancora, ancora. Cinque centimetri, più sinistra. No, no, lì no, sinistra, ok. Una cengia di pochi metri sul lato ovest completa il superamento di questo gendarme. La cresta prosegue poi con una sequenza di saliscendi senza difficoltà, nonostante qualche breve passaggio un po' più esposto. Raggiungiamo così un grosso intaglio, ben visibile anche dal fondo valle. In una precedente esplorazione siamo arrivati fin qui. Da qui ci muoviamo su terreni nuovi. Abbiamo però capito che l'intaglio si può superare facilmente scendendo fino al fondo e risalendo poi sul versante sinistro. La salita si svolge su terreno finalmente detritico, non proprio agevolissimo. Da sotto sembra di vedere qualche traccia di passaggio, ma si tratta quasi certamente di segni lasciati dagli animali. Magari taglia più verso giù. È sufficiente comunque salire in diagonale cercando di non smuovere troppi sassi e puntando nuovamente verso la cresta. La Grandin è ormai lontana, ma la strada da percorrere è sconosciuta e ancora lontana. Noi giriamo lì dietro e riprendiamo la cresta. Sì, penso di sì. Secondo il vantaggio è che è tutta spostalinata. Un punto qua in mezzo, giro lì dietro. Sì, ma se non è. Una piccola rampa detritica tra le rocce riporta in cresta, che si presenta nuovamente erbosa. C'hai capito? Ormai qua è banale. Qui non possiamo far altro che procedere in direzione nord. Perlomeno questo tratto è più agevole. Superata anche questa gobba, appaiono la nostra meta finale e anche l'ultimo tratto inesplorato. Poco più avanti la cresta attraversa una zona di caratteristiche rocce chiare. Dovremo capire se e come andranno aggirate, attraversate o scavalcate. Raggiunte le rocce bianche, aggiriamo a sinistra la prima lama fino a un intaglio. Il gendarme successivo sembra girabile. Tutto sta a capire da che lato. Qua o ci si abbassa, o si aggira di qua, di là. Capire se è meglio girare, lo dico di qua. Perché se qua fosse come qui, sai. Il versante di Val Tournance è ricoperto di detriti instabili. Scartata questa prima ipotesi, decidiamo di scendere nell'intaglio fino al prato sottostante sul versante est. L'operazione richiede un breve passaggio su roccia. Lasciata la cresta rocciosa, scendiamo per alcuni metri sul ripido prato. Nella conca sotto di noi passa il sentiero più comune per raggiungere la becca di Nana. Potremmo scendere per incontrarlo, ma il nostro scopo è salire dalla sconosciuta cresta sud. L'aggiramento del gendarme bianco avviene su prato inclinato con aree detritiche. Superato il gendarme, risaliamo per portarci ancora una volta in cresta. L'avvicinamento al pendio finale continua. La croce di vetta è già ben riconoscibile. Qui la cresta si stringe nuovamente, costringendoci a qualche altro piccolo passo su roccia. Un'occhiata all'indietro, verso le rocce bianche ormai superate. Tra poco attaccheremo la sud della becca di Nana. Come sarà? Inizialmente sembra che si possa procedere senza grossi problemi su roccia gradinata. Se fosse tutta così fino in cima, significherebbe che le difficoltà sono finite. Per ora su questa cresta si procede con l'aiuto delle mani, ma camminando quasi normalmente. Ultimi metri di salita. Ecco apparire la croce. Sicuramente non siamo stati i primi, ma senza documentazione, senza sentieri, e soprattutto senza la certezza che fosse possibile, abbiamo raggiunto la nostra meta. Possiamo guardare dall'alto, ancora una volta, la via percorsa. In vetta, oltre alla croce metallica, si trova un piccolo altare eretto in memoria di un gruppo di alpini, vittime di un incidente nel 1954. L'obiettivo di oggi è stato raggiunto, tuttavia avremmo sperato in un meteo migliore per poter apprezzare l'ampio panorama che abbraccia sia la conchia di Ayas che l'alta Val Tournansh. A nord spuntano a tratti il Bec Trecare, i Tournalen e la cima sud della Roisetta. Sotto la cima inizia un'altra via di salita, leggermente più impegnativa della normale, che raggiunge la Becca di Nana dal Colle di Nana via Cresta Nord. Sotto la cima inizia un'altra via di salita, e alla prossima inizia un'altra via di salita, Dato che la salita è stata avventurosa non possiamo certo scendere sulla via normale. Scegliamo infatti la ripida diretta al colle Vascoccia sul versante est. Inutile dire che nemmeno qui ci sono tracce, tuttavia si trova qualche ometto. Tanto per cambiare il prato è molto scosceso. Non ci sono però difficoltà alpinistiche, salvo in questo punto in cui è necessario superare una barra rocciosa. Faccia a monte e con la necessaria cautela ci caliamo lungo le rocce. Superato questo punto la discesa prosegue nuovamente su prato alternato a piccole pietraie. La discesa è stata lunga, oltre 440 metri di dislivello e non veloce a causa della natura del terreno, ma ecco finalmente il colle Vascoccia. Qui incontriamo il sentiero 3 proveniente dal col di Nana, lo seguiamo verso l'Alpe Vascoccia. Questa traccia funge anche da avvicinamento al Facciabella ed è ben battuta e frequentata. Sopra le nostre teste, parzialmente nascoste dalle nuvole, l'intera cresta tra la Grandin e la becca di Nana. Con l'arrivo all'Alpe Vascoccia chiudiamo l'anello di oggi. Lasciamo a sinistra la cappella e proseguiamo verso l'Alpe Mezzan. Superato l'agriturismo, l'esplorazione di oggi si avvia al termine. L'ultimo tratto di sentiero, già percorso nella prima parte di salita, ci riporta infine a Mandrù. La prima parte di salita, ci riporta infine a Mandrù. La prima parte di salita, ci riporta infine a Mandrù. La prima parte di salita, ci riporta infine a Mandrù.